E allora, per rispondere a quella che avete ben capito, non è dunque una domanda puramente retorica, io vi propongo di seguirmi in un breve percorso che si riferirà in maniera particolare a due episodi della biografia intellettuale di Immanuel Kant, episodi abitualmente trascurati o non adeguatamente valorizzati e che invece ci offrono l'opportunità di approssimarci ad una risposta persuasiva dell'interrogativo se è possibile insegnare filosofia. Il primo di questi episodi della biografia intellettuale di Kant si riferisce al semestre invernale 1765-1766. Kant ha da poco superato la trentina di anni, ha conseguito dieci anni prima l'abilitazione all'insegnamento della filosofia, un titolo, tanto per capirsi, paragonabile a quella che è stata nel nostro paese la libera docenza. Era infatti private docent, che è la denominazione usata nella Prussia dell'epoca per indicare il libero docente, ma non aveva ancora acquisito la cattedra di insegnamento. Egli era quindi legato a un contratto di insegnamento che poteva essere rinnovato anno per anno, ma che avrebbe potuto anche essere disdetto o semplicemente non rinnovato. Era allora fondamentale per il giovane precario professor Kant poter contare su una ampia partecipazione degli studenti al suo corso universitario di lezioni e soprattutto era necessario o fortemente raccomandato che egli potesse contare su un notevole gradimento per il suo insegnamento, visto che lo stipendio degli insegnanti era formato dalle tasse versate dagli allievi, i quali quindi in qualche modo pagavano direttamente i loro docenti. E poter contare sul consenso, sulla popolarità, sul gradimento degli studenti era dunque una garanzia di rinnovo del contratto e anche eventualmente di un aumento della retribuzione mensile. Bene, all'inizio del semestre, quando sta per cominciare il suo corso, Kant affigge alla bacheca della facoltà una nachricht, termine tedesco che possiamo tradurre sia pure approssimativamente con comunicazione o, se preferite, avviso. Si trattava di una comunicazione rivolta agli allievi che si proponevano di seguire il corso di lezioni di Kant e che conteneva, su questo punto sarà bene indugiare per chiarire bene di che cosa si trattava, conteneva l'illustrazione dei criteri di carattere metodologico ai quali Kant intendeva ispirare il suo insegnamento. Insomma, tanto per capirsi, la nachricht comprendeva una sorta di dichiarazione di intenti, tale per cui gli allievi potessero sapere anticipatamente quali fossero gli obiettivi formativi indicati prescelti dal docente e potessero quindi esercitare a ragion veduta le loro scelte. Un punto va sottolineato prima di cominciare a esaminare alcuni passaggi della nachricht. L'organizzazione degli studi universitari in quel periodo prevedeva un primo anno uguale per tutti gli allievi nel corso del quale veniva impartito un insegnamento di filosofia generale valido per tutti gli allievi, indipendentemente dalle scelte opzionali che avrebbero esercitato a partire dal secondo anno. Una volta completato lo studio di questa specie di zoccolo comune costituito dall'insegnamento della filosofia, gli allievi avrebbero poi nell'anni secondo, terzo e quarto scelto fra i tre indirizzi di studio allora suscettibili di essere percorsi, cioè giurisprudenza, teologia, medicina. Ma l'insegnamento della filosofia avrebbe riguardato tutti gli allievi. Teniamo presente questa circostanza apparentemente estrinseca perché è un dato che fa da sfondo alla comprensione della Nachricht che viene delineata da Kant come indicazione del programma di insegnamento per l'anno accademico 1765-1766. Bene, proviamo a vedere insieme quali sono i passaggi principali di questo testo kantiano. Leggo alcuni passi da questo testo. Il testo è rimasto inedito vivente Kant, è stato poi ritrovato nelle carte di Kant e pubblicato molti decenni più tardi, poiché la redazione di questo testo risale a un periodo che precede di 15 anni la pubblicazione della critica della ragion pura, anche la Nachricht viene abitualmente liquidata come un testo minore, come uno scritto preparatorio del decennio, gli anni Ottanta, in cui Kant pubblica le tre critiche. Ma vedrete come uno scritto apparentemente minore, che ha una destinazione prevalentemente didattica, non destinato alla pubblicazione, possa in realtà contenere alcuni temi, alcuni spunti di particolare importanza. Io penso di procedere nel seguente modo. Do lettura di quattro brani distinti, desunti dalla Nachricht. Mi arresto dopo la lettura di ciascuno di questi brani per commentare insieme a voi il contenuto. Scrive Kant Da un insegnante ci si attende che formi nel suo discepolo l'uomo intellettivo, poi quello razionale e infine il dotto. Come vedete qui vengono indicati, diciamo così, tre gradi successivi del processo formativo. L'uomo intellettivo, cioè l'uomo provvisto di first stand, di intelletto, che come ricorderete Kant distingue dalla Vernunft, che è la ragione. Allora il primo gradino è l'uomo intellettivo, fornito dunque di first stand, poi quello razionale, provvisto dunque della Vernunft, della ragione, e infine il dotto. Un tal modo di procedere ha il vantaggio che qualora lo studente non arrivi mai all'ultimo gradino, cioè non arrivi mai a diventare dotto, nella accezione tecnica indicata da Kant, avrà però tratto una certa utilità dalla istruzione. Anche se l'allievo si ferma a livello dell'uomo intellettivo, bene, si può affermare che egli abbia tratto una qualche utilità dalla formazione. Secondo brano, col quale cominciamo a entrare nel merito di questa comunicazione. è un brano fondamentale perché con stile piano, scorrevole, senza tecnicismi o discorsi costruiti in maniera troppo elaborata, Kant ci indica quale deve essere, a suo giudizio, la finalità dell'insegnamento. Sentite, lo studente non deve imparare dei pensieri, sottolineato in corsivo pensieri, ma deve imparare a pensare. Non lo si deve portare, anche questo è sottolineato, ma guidare se si vuole che in seguito sia capace di camminare da solo. Proviamo a riflettere su queste tre semplicissime righe. Non so quale prima impressione suscitino in voi, ma suggeriscono immediatamente, almeno alla prima lettura che ne avevo fatto, l'impressione di affermazioni al tempo stesso ovvie, ma estremamente preziose e tutt'altro che scontate se noi abbiamo presente le modalità concrete di insegnamento della filosofia, sia a livello secondario che a livello universitario. Qui faccio solo una postilla, c'è da domandarsi quante delle discipline filosofiche che vengono impartite negli studi universitari corrispondono a queste indicazioni kantiane. Fino a che punto la finalità perseguita dai docenti è quella di insegnare a pensare piuttosto che limitarsi a insegnare pensieri? Per cui, pur nella loro apparente ovvietà, le tre righe che abbiamo letto sono fondamentali. Le rileggo. lo studente non deve imparare pensieri ma deve imparare a pensare. Di conseguenza non lo si deve portare, cioè non dobbiamo condurlo in maniera che egli si lasci trascinare passivamente, ma dobbiamo guidarlo e guidarlo implica un'azione da parte del docente che assecondi l'autonomia intellettuale dello studente senza sostituirsi allo studente nel processo di crescita. Se si vuole che in seguito sia capace di camminare da solo. Ecco, questa è la finalità qui per la prima volta enunciata con chiarezza da Kant. Compito dell'insegnamento è insegnare a pensare, guidare lo studente in modo che poi in seguito sia capace di camminare da solo. E ancora, di camminare